sono edo bacci di milanine fm 70s 80s e queste sono le voci della golden age delle radio private in questa puntata sono in collegamento con un vero e proprio supereroe che insieme al fratello angelo e a tre membri della famiglia cozzi i fratelli piero nino e francesca è stato fondatore di radio milano international do il benvenuto a rino borra edo ciao come stai grazie di avermi invitato grazie a te rino grazie a te per per aver raccolto il mio invito e quindi è sempre un piacere grazie mille sei gentilissimo allora di solito io inizio queste chiacchierate chiedendo i ricordi del primo ascolto delle radio libere ma con te bisogna cominciare un po più indietro perché nel marzo 1975 tu non ascoltavi la radio la facevi parlando al microfono di rmi quindi andiamo invece a dicembre 1974 quando un signore di parma di nome virginio menozzi fa un viaggio a milano e incontra tuo fratello angelo che gli vende un trasmettitore militare collins da 10 watt gemello tra l'altro di quello che utilizzerà radio milano international inizialmente e dopo alcune trasmissioni sperimentali nello stesso dicembre il primo gennaio 1975 dà vita a radio parma che diventa di fatto la prima radio privata italiana e che esiste ancora oggi prima di tutto tu c'eri a quell'incontro ma guarda ti devo dire comunque che il signore che io ricordo di parma e con grande piacere perché era un amico si chiamava toni forse toni era responsabile tecnico perché virginio menozzi era proprio stato poi l'editore di radio parma è probabile io virginio menozzi non l'ho mai incontrato non c'era poche volte che sono stato a parma ho sempre incontrato toni e poi veniva anche a milano a trovarci ma la mia domanda più che altro è questa come mai avete fatto partire prima loro essendo già in possesso dei mezzi tecnici per poter trasmettere diciamo che dato che non si poteva fare quello che noi volevamo fare abbiamo fatto dalle prove per vedere se dando un calcio nel sedere al cane che dormiva cioè le scopo ci avrebbe chiuso allora toni ha detto e provo io tra l'altro toni che era anche un buon tecnico perché il trasmettitore che avevamo tutti e due era in origine un trasmettitore telefonico quindi aveva un range di come si chiama di frequenza che era un po complicato usare nell'fm quindi toni ha detto non ti preoccupare ci penso io ha modificato sia il suo che il nostro allora lui è partito con il suo appunto come ti dico per primo e poi dopo siamo partiti noi arriviamo al 10 marzo 1975 è un lunedì e intorno alle ore 15 Piero Cozzi dice le prime parole al microfono di Radio Milano International e quindi nasce la Milano in FM ecco Rino che ricordi hai dei giorni immediatamente precedenti e anche delle ore precedenti all'inizio delle trasmissioni di quel mitico 10 marzo diciamo che i ricordi sono cioè eravamo comunque giovani quindi stavamo sempre insieme perché sia Nino che Piero erano miei coetanei qualche anno più o meno quindi stavamo insieme durante il giorno partistichiamo di fare cose eccezionale quindi abbiamo preparato tutto e dopo un po' di pensieri ma no ma sì i genitori di Piero che di Francesca dicevano ma insomma state attenti perché non è una roba proprio legale vabbè insomma dopo tante titubanze abbiamo deciso di farlo vediamo cosa viene fuori tanto non è che ammazzavamo gente il primo quartier generale di Radio Milano International è stato l'appartamento grandissimo tra l'altro della famiglia Cozzi che era al nono piano di via Locatelli 1 mentre voi Borre invece abitavate in via Rosellini che a volte ho visto nominata come sede di RMI ma allora cosa c'era a casa vostra praticamente all'inizio? Via Locatelli era la casa della mamma e del papà di Francesca Cozzi che era la moglie di mio fratello. Via Rosellini era la casa dove abitava Francesca e mio fratello allora in via Rosellini noi registravamo le trasmissioni e in via Locatelli dato che il palazzo di via Locatelli è il primo grattacielo di Milano nel senso di com'è di costruzione certo e poi era molto alto e appunto dato che comunque l'FM è una propagazione ottica se ha un otacolo non lo salta o sei più alto oppure quello dopo non sente. Allora per trasmettere a Milano andava bene via Locatelli quindi abbiamo montato l'antenna sul tetto del grattacielo di via Locatelli tirando il cavo fino al nono piano e nella stanza da letto di Piero abbiamo montato il registratore con il trasmettitore e trasmettevamo da lì la registrazione. Via Rosellini registravamo con un registratore a cassette e registravamo con un mixer che era stato comprato al GBC con due piatti che erano due elenco mi sembra. Cioè niente di complicato su un tavolo in una stanza mezza vuota con un divano o a televisione. Ci sono delle foto molto iconiche di quei primissimi giorni. No 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 di via Rosellini non ce ne sono. No 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 parlavo di via Locatelli. Eh via Locatelli tu hai le foto appunto dalla camera da letto di Piero dove vedi dato che il papà era ambasciatore italiano in Madagascar come ultima destinazione e loro erano stati in Madagascar quindi tu come puoi vedere nella stanza ci sono pesa corna di mucche, corna di tappeti, cioè cose che si erano portati quando erano tornati in Italia perché il papà era andato in pensione. Quindi c'è il letto in un angolo in un altro angolo appoggiato su un semplice tavolino ci sono dei dischi e c'è il mixer e ci sono i due piatti. Rino smentiamo ufficialmente la leggenda metropolitana che i primi tempi trasmettevate da un furgoncino sempre in movimento nelle vie di Milano per evitare di essere intercettati dall'Escopost che è il nucleo speciale della polizia postale. No, a parte che tecnicamente non era possibile. Il problema era venuto fuori perché all'inizio dopo un po' di tempo, ma questo è capitato credo dopo i primi tre o quattro mesi, quando poi dopo la notizia si è diffusa ci cercavano tutti per sapere perché e come, come mai c'era venuta questa idea, quindi mi ricordo un articolo dalla notte perché una volta vi dicevano dei giornali che uscivano a metà pomeriggio, che erano la notte e il Corriere di Informazione e la notte ci aveva pubblicato questa notizia dove appunto, essendo pirati, correvamo per i mari di Milano. Beh, tra l'altro questa notizia appunto falsa del pulmino è stata pubblicata anche in occasione del quarantesimo compleanno di Radio Milano International nel 2015 in un articolo addirittura del Corriere della Sera, alla faccia del buon giornalismo. Ma sai, poi magari diciamo che è una bella immagine, quindi raccontata così e poi chi scrive generalmente, o perlomeno chi scriveva, a me hanno dato la notizia senza avere cognizioni tecniche, quindi è concepibile che abbiano scritto, e poi è un po' romantica. Eh sì, diciamo romantica. Eh sì. Immagino che non avevate la minima idea della grandezza di quello che stavate innescando, vero? No, assolutamente. Era un divertimento goliardico tra tre ragazzi ventenni, perché io avevo 22 anni, Nino ne aveva 23 e Piero ne aveva 20. Quindi era un'avventura, non so, come quando Colombo ha scoperto l'America, cioè tu parti ma non sai dove vai. Ma neanche pensavamo di fare delle cose così. Sì, oh Dio, una mezza idea io e Angelo ce l'avevamo perché avevamo le manie di radiomatori, ascoltavamo le radio che venivano dall'estero, avevamo le stazioni dove sentivamo onde corte, onde lunghe, cioè una passione che Angelo aveva, Angelo dato che aveva 14 anni più di di me, in pratica io ero un bambino quando lui cominciava e quindi mi ha trasmesso un po' la passione, ecco, benché la sua fosse molto più decisa rispetto alla mia. Io stavo con lui, però l'ho imparato. Si ascoltavano le radio, poi ascoltavamo le radio che venivano, perché all'epoca c'era una radio Rossemburgo che si ascoltava solo di notte in onde medie, ma che andava e veniva, quindi ci voleva una radio particolare se non sentivi male, c'era Radio Nord International che erano, dato che in Inghilterra anche là c'era il monopolio e non si poteva fare, questi avevano superato il monopolio mettendo una nave nel mare del nord e trasmettendo nelle acque internazionali e quindi noi poi avevano gli uffici a Lugano e un sabato e una domenica siamo partiti da Angelo, siamo anche a trovarli, ci hanno ospitato, ci hanno spiegato, insomma comunque eravamo andati a vedere per curiosità, ma l'idea così compiuta per partire si è concretizzata non in un giorno o due, cioè prima io e Angelo, poi Angelo si è sposato, abbiamo unito le forze io e i miei due, cioè i suoi due cognati, eravamo giovani e abbiamo colto quell'idea come anche nostra. Cosa ricordi delle tue prime trasmissioni? Ci sono programmi con titoli improbabili come non troppo, un po' meno, ma quasi? Oppure altisonanti come Electric Sound Explosion? Insomma vera e propria sperimentazione in onda. Senti, i titoli venivano così, come ci venivano perché non c'era nessuno che ci metteva limiti, i limiti, i limiti avevamo dalla gente che pensava di fare delle grandi questioni di marketing o roba del genere, come ci piaceva, dato che dovevamo dividere le ore del giorno perché andavo in onda io, Nino, Piero, quindi i nomi, sì, erano nomi che ci venivano in mente mentre stavamo magari facendo colazione alla mattina, quelle cose lì che ti venivano in mente senza nessun pensiero recondito, mettiamo questo perché hai meglio di questo, come ci veniva, che ci piaceva, dato che comunque le decisioni le prendevamo in tre, non è che era una grande complicazione. Ma nelle prime settimane e nei primi mesi avevate il polso della situazione di quanto vi ascoltavano, avevate feedback e poi ecco, una curiosità mia, quando avete messo il primo numero telefonico a disposizione degli ascoltatori? Dunque, non avevamo assolutamente nessuna opinione di chi ci ascoltava o meno nei primi tempi, diciamo che le prime opinioni o perlomeno le prime conoscenze di quello che succedeva sono avvenuti dopo quattro o cinque mesi. E invece il telefono quando l'avete messo per la prima volta? Il telefono, che poi era il telefono di casa, immaginavo, non è che era una linea in più, era proprio il numero di telefono di casa Cozzi. No, 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 era il telefono dei genitori di Francesca, di Piero, questo non è che era una roba fuori dal mare, quindi i primi periodi i genitori andavano in visibilio. E poi dopo nel tempo abbiamo preso anche i nostri numeri, ma comunque in origine il telefono era il telefono di casa, quindi poi dopo li chiamavano di notte, poi trasmettevamo 24 ore su 24, quindi eravamo prima solamente noi, poi di notte c'era gente che ci veniva a trovare. Gli ascoltatori poi erano ascoltatori accaniti, assidui, magari passavano i panettieri, ci portavano le pizze, passavano, che ne so, quelli che portavano i giornali, ci suonavano il campanello e ci davano i giornali, poi molti ti venivano a prendere per andare a mangiare a casa loro, a farti conoscere i genitori, cioè dalle cose incredibili che a raccontarle oggi sembrano cose al di fuori dalla realtà. I primi giorni trasmettete solamente tre ore, dalle 15 alle 18, poi ne aggiungete un'altra fino alle 19 e piano piano arrivate alle 24 ore di diretta, quindi alla non-stop music che era diventato il vostro claim. Sì, allora i primi tempi tre ore perché appunto le tre ore erano più semplici da registrare perché facevamo noi, poi era più semplice anche gestire le tre ore. Le 24 ore sono arrivate dopo un anno, prima di tutto perché non si poteva stare in onda 24 ore su 24, avevamo in tre, perché poi magari lì facevamo come a militare quando facevi le guardie, dato che in fianco alla stanza da letto di Piero ce l'ha letto, mio era stanza di Nino, poi lui dormiva sul letto nella sala trasmissioni, io dormivo col trasmettitore in fianco, perché dato che il palazzo è un quadrato con il cavedio in centro, cioè voglio dire il buco del palazzo è quadrato ma in centro è vuoto, l'antenna veniva giù dal tetto e veniva dall'interno del palazzo e entrava dalla finestra dove avevo io la camera da letto e il trasmettitore era in fianco a me sul mobile a cassettori dove c'erano le camicie, perché ero un trasmettitore da 20x40x40, insomma non era una roba... Ti avevano adottato la famiglia Cozzi praticamente? Eh sì, arrivavamo lì, perché tanto ormai essendo maritati eravamo parenti, quindi si divaccava alla militare nella sala, ma poi l'appartamento era talmente grande che non ci si incontrava neanche molte volte, quindi noi stavamo in un'ala e gli altri in un'altra. Inizialmente lo staff dei Disjockey di Radio Milano International è composto da te, Piero e Nino, poi arriva Pino Beccaria che è stato il vostro primo giornalista, Beppe Fara, Claudio Cecchetto, Fausto Terenzi e ne potrei nominare a decine e la radio comincia a popolarsi sempre di più. Sì, perché poi dopo, passati i primi periodi, la roba si era fatta talmente importante che la gente veniva e si proponeva. Claudio lo siamo andati a prendere da Marco, Fausto invece lo siamo andati a prendere in un locale, in una discoteca, al scamideria come si chiamava, il figgera, si scendeva sotto la scarac, perché si ballava anche il pomeriggio una volta, adesso non sono cose che fanno più, ma una volta si ballava anche il pomeriggio, la sabata e la domenica e Fausto faceva il DJ e quindi lo siamo andati a prendere lì. Anche la scelta di chi andava in onda, ok, una volta non c'erano tutti i problemi di oggi, se uno era bravo e per intendere per bravo intendo dire che va... Infatti ti volevo chiedere qual era il vostro concetto di bravo nel 75, ecco. Allora, bravo era uno che sapeva il minimo, cioè insomma, era uno che sapeva dialogare e parlare, aveva un minimo di pratica dell'italiano e anche magari qualche altra lingua e che conoscesse un minimo di musica, perché una volta chi andava in onda suonava i dischi che prendeva lui e ti ritirava fuori dall'archivio e li mettevi in sequenza secondo il tuo umore e la tua volontà. Nessuno gli diceva non mettere questo, non mettere quell'altro, cioè suona della bella musica e hai chiuso l'argomento. Abbiamo ricordato più di una volta che in quell'appartamento vivevano anche i genitori di Piero e Nino, che hanno avuto una pazienza da Santi perché in radio c'era movimento fino a notte e a volte il signor Cozzi arrivava in pigiama a dirvi di fare meno casino, magari mentre c'erano ospiti come Rod Stewart o i Bee Gees, una cosa del genere. Ma era un ambiente divertente, è vero, il papà di Francesca e di Nino e di Piero, magari di notte no, quello lì non era lo Stewart, quello che è venuto a decidere di fare casino in pigiama, era una cantante country che si chiamava, perché lì nel palazzo abitava Emilio Harris, bravo, lì nel palazzo abitava anche Vecchioni o perlomeno la mamma perché lui ormai era sposato, ma dall'altro lato del palazzo c'era la mamma di Vecchioni che conoscevo benissimo perché la incontravamo sempre nell'atrio e sotto, ci facevamo i complimenti, era una signora simpatica e Vecchioni una notte si presenta con uno dei gnotori che forse era il chitarrista, adesso mi sfugge il nome, sono state, non so, le due o che, o qui Emilio Harris, ma Emilio Harris non abbiamo i dischi, era country, non ce l'avevamo, ma ce l'ho io, saliti e sopra erano i sei perché poi venivano da Baldoglie notturne al Charlie Max, sai i locali dove andavano al Nepenta, quei posti che non so, forse il Nepenta c'è ancora, ma c'è rimasto un credo, dove stavano in giro di notte, insomma il papà che dormiva due istanze dopo, nonostante fossero coinventate, facevamo rumore perché poi si beveva, magari vuoi un panino, vuoi un caffè, quindi si facevano un po' di valdoria come i campeggi e è venuto, ha aperto la porta e ha detto ragazzi, lasciatemi dormire, perché ormai aveva 80 anni il papà, quindi non era proprio un giovincello. Dopo un annetto lasciate l'appartamento al nono piano e scendete al primo piano, sempre di via Locatelli 1, che rimarrà poi la vostra sede fino alla fine di Radio Milano International. E all'inizio del 1977 i fratelli Cozzi lasciano, se ne vanno, Nino va in Canada e poi si trasferisce a New York, mentre Piero, P3, va alla concorrente Studio 105. Ecco, la domanda è, cosa è successo? Sai, nel tempo le difficoltà comunque erano abbastanza comuni, cioè ce n'erano tante perché la pubblicità c'era ma era una difficoltà, le spese, perché poi comunque sì, la gente veniva per niente, ma due soldi o un mantenimento di vita, noi per esempio con la Porta Rossa facevamo pubblicità e ci davano i buoni, ci davano i buoni per andare a mangiare, perché facciamo lo scambio di natura. E quindi poi dopo, Nino poi si è sposato e quindi la moglie era americana, quindi lui è andata in America. Poi sono nate le altre radio, le altre radio tendevano a sottrarti quelli che secondo loro erano i bravi per metterti in difficoltà. Adzan aveva aperto 105 e quindi ha preso Piero e ne ha preso anche Claudio. Tra il 1976 e il 1978 a One on One entrano tra gli altri Gigio D'Ambrosio, Pippo Ingrosso, Leopardo, Gerry Bruno, Moreno Guizzo, Gerry, detto Gary, Scotti e quindi dopo una fase pioneristica inizia un momento più professionale di Milano International. Sì certo, poi diventa un lavoro serio, oltre a essere una roba divertente, poi dopo comincia a essere una roba che ha un costo, che ha bisogno di ricavare soldi, che ha bisogno di gestire perché bisogna tenere i rapporti con le casi escogravi. Erano cose che in ogni struttura di lavoro, se ti vuoi creare un ambiente che sia gestito con intelligenza, ha bisogno del personale. Quindi nel tempo ci siamo allargati prendendo le persone che ci sembravano adatte a svolgere i lavori che dovevamo fare e ti devo dire che abbiamo sempre scelto in bene.